Grazie Ecco nel periodo del Covid si è riaccesa una vecchia passione che era la pittura che avevo da ragazzo e in gioventù ho ritrovato una vecchia cassetta di colori ancora buoni c'erano lì delle tele e ho ricominciato a dipingere in garage nelle lunghe giornate di lockdown e ho cominciato a interessarmi un po' alla luce in particolare, ai riflessi ho cominciato con quegli studi dell'acqua, ho visto che venivano bene per me e quindi sono andati avanti, ho fatto varie espressioni anche di qualcosa di architettonico e sono piaciuti e allora mi hanno invitato a esporre queste cose attualmente ho due quadri a Spoleto, ho una mostra che fanno tutti gli anni e sono contento, penso di andare avanti se la critica dei visitatori, degli amici e di tutte mi entusiasma Bene, per amore Sandro Bravo Continuo così Bravissimo Grazie Grazie